Buongiorno, cari compagni e cari compagni, cari amiche e cari amici. Siamo tornati in piazza in questi giorni, questo è molto importante, bisognava tornare in piazza e dovremmo esserlo sempre di più. Siamo tornati in piazza per esprimere la nostra solidarietà ai lavoratori e alle lavoratrici americane, contro il razzismo, contro le politiche liberiste, siamo tornati in piazza per difendere un reddito per tutte e tutte, contro la disoccupazione, per aprire una battaglia per garantire a tutte e tutte un posto di lavoro nella crisi sempre più grave che si prospetta. Ed è proprio da questa crisi che vale la pena di partire per fare alcune considerazioni. La crisi è enorme, è una crisi del sistema capitalista del suo complesso, si combina come abbiamo detto più volte la crisi sanitaria e la crisi sociale a una crisi economica profonda. In Italia tutto si preannuncia particolarmente difficile, i padroni già si orientano per passare direttamente ai licenziamenti, a grandi ristrutturazioni, a un nuovo attacco al movimento dei lavoratori come peraltro il Presidente della Confindustria ha ripetuto molte volte ormai con estrema chiarezza e con estrema decisione. Quindi in piazza dovremo tornare con molta forza. A questa crisi il padronato, la classe borghese, risponde attraverso una serie di misure. In primo luogo ha messo da parte provvisoriamente però soltanto le vecchie misure liberisti. I soldi che non c'erano, non c'erano per le pensioni, per la sanità, all'improvvisamente si sono moltiplicati come i pani e i pesci della parabola evangelica. miliardi, non alcuni miliardi, non centinaia di miliardi, ma migliaia di miliardi. All'improvvisamente i soldi ci sono, la banca europea, le istituzioni europee non hanno problema a riversare una liquidità infinita. Già, perché lo fanno? Perché hanno abbandonato provvisoriamente il patto di stabilità e tutte le altre misure economiche liberiste con le quali ci hanno tormentato in tutti questi anni. Ma perché bisogna salvare la casa, bisogna salvare la casa capitalista. Però questa casa, appunto, non è la casa della solidarietà, la casa del bene comune, la casa che loro vogliono difendere è quella dei profitti e delle rendite finanziarie. E dietro questa enormità di liquidità che viene riversata in realtà c'è il mantenimento del sistema, non solo del sistema capitalismo, del suo insieme, ma anche dell'impronta liberista e delle rendite finanziarie e dei profitti, ben inteso. Però alla fine di questa grande operazione di liquidità, di emissione in un'enorme massa di denaro, che è necessario ovviamente per cercare di tenere in piena la baracca dal loro punto di vista, che cosa si produrrà? Un enorme debito per gli Stati e in particolare per lo Stato italiano. Quindi in autunno avremo contemporaneamente una caduta del PIL, del prodotto interno lordo, enorme alla fine di quest'anno, ma anche un enorme ulteriore indebitamento. Chi pagherà questo indebitamento? Questo è il problema, questa è la posta in gioco. Qualcuno, cioè loro, i potenti, hanno già in mente chi deve pagarlo. Allora sta agli oppressi, agli sfruttati, ai lavoratori, essere in campo per dire che la crisi questa volta la devono pagare loro, la deve pagare chi non ha mai pagato. Altro tema fondamentale è come è stata affrontata questa crisi sanitaria. Questa crisi sanitaria ha messo in luce lo scempio che è stato fatto della sanità pubblica, i tagli terribili e l'arrivo della pandemia, dell'epidemia ha prodotto semplicemente il crollo del sistema sanitario. È apparso chiaro la difficoltà da affrontare il virus in modo adeguato e soprattutto anche adesso, quando sembra un po' essersi attenuata l'epidemia, ecco che appare con chiarezza che tutta una serie di altri servizi sanitari semplicemente in questi mesi sono saltati e quindi il rischio è ancora più grande. È la pandemia, è l'epidemia, è il Covid, ma nello stesso tempo anche sono tutti gli altri interventi sanitari che sono stati rimandati, posticipati e non c'è una struttura in grado di poterla affrontare adeguatamente. Questa è una responsabilità enorme dei governi della classe dominante che hanno massacrato la sanità in tutti questi anni. Nella questione poi di questi ultimi mesi vediamo un po' chi è che ha agito e come hanno agito. Il governo ha agito in ritardo in modo insufficiente ed ha accettato allargamenti i ricatti della Confindustria, tenendo aperte delle produzioni che non è delle attività che avrebbero dovuto invece essere interrotte per avere qualche speranza in più di bloccare l'epidemia. Le regioni, i presidenti leghisti, ma tutti i presidenti delle regioni, si sono mosse ugualmente in modo inadeguato, perlomeno fortemente responsabile. E infine c'è la Confindustria, che ha preteso, imposto, che una serie di attività continuassero, che ha impedito anche la chiusura di determinate zone, chiusura che se fosse stata fatta a tempo probabilmente avrebbe contenuto i terribili danni prodotti dall'epidemia stessa. Tutte queste forze hanno una grande responsabilità, sono responsabili dell'aumento dei morti di migliaia di vittime che probabilmente avrebbero potuto essere risparmiate. E adesso che stanno arrivando tutti questi soldi, cosa succede? I padroni chiedono tutto. Hanno già avuto moltissimo, le misure finanziarie del governo hanno già dato loro decine, anzi centinaia di miliardi, ma chiedono ancora di più perché adesso arrivano pure i soldi europei. Loro vogliono avere questo denaro e vogliono mantenere il controllo del loro utilizzo. È fantastico la posizione della FCA che da una parte distribuisce 5 miliardi e mezzo di dividendi ai suoi, alla famiglia, una famiglia bisognosa quella di Agnelli notoriamente, dall'altra parte però chiede un prestito alle banche, un prestito che secondo il decreto in vigore sarà coperto dallo Stato stesso fino al 70-80%. In poche parole i dividendi da una parte, i soldi dallo Stato dall'altra per poter continuare le loro attività e per in realtà costruire le condizioni del mantenimento dei loro profitti. Quindi l'intervento pubblico a questo punto e dello Stato lo vogliono dopo essere stato rigettato, ma in realtà c'è sempre stato, pensate a tutti gli sgrati fiscali che sono state date alle imprese, tutti questi soldi li vogliono, ma li vogliono controllare loro per i loro fini e utilizzare loro per i loro fini come il Presidente della Confindustria Bonomi in tutte le interviste che fa lo ripete incessantemente. Altro elemento da sottolineare è la passività e la subalternità delle organizzazioni sindacali, dovrebbero essere in campo con un loro piano, con una loro mobilitazione, attivando l'iniziativa delle classi lavoratrici e subalterni. Invece che cosa chiedono? Chiedono ai padroni, al governo un patto sociale, ma in realtà i padroni hanno già detto fate come diciamo noi, oppure noi andiamo avanti lo stesso e li schiacciamo. Il governo è molto chiaro chi ascolta, quali pressioni subisce e quali pressioni accetta. Se mai il comportamento delle organizzazioni sindacali dovrebbe essere completamente diverso. Non chiedere per favore col cappello in mano al governo che dia qualcosa o che guardi con occhio più benevole alla classe lavoratrice di quanto ha fatto finora. Perché tutte le misure che ha fatto il governo finora sono misure assolutamente parziali per cercare di tamponare alcune falle, ma tutte misure appunto parziali e temporaneo. Fra poco finirà la cassa integrazione, finirà anche il blocco dei licenziamenti, tutti elementi che invece devono assolutamente essere misure che devono essere modificate. L'organizzazione sindacale dovrebbe avere una sua propria piattaforma, una mobilizzazione per imporre al governo determinate misure, non solo per chiedere per favore, ma imporre attraverso la strumenti che hanno le classi lavoratrici quella di una capacità di mobilizzazione per affermare i propri diritti. Ma questo è tanto più importante farla, questa mobilizzazione delle classi lavoratrici, anche per un'altra ragione, perché ci sono altre milioni di persone precarie, senza lavoro, senza reti e poi c'è vasti settori della piccola borghesia, incazzata, impaurita, che era già in difficoltà di fronte alla crisi economica, oggi ancora di più minacciata di essere precipitata verso il basso, che reagisce a modo suo, in modo individuale, cercando un salvatore, legandosi con le forze reazionarie come la manifestazione di Roma del 2 giugno già ha mostrato, in quella giornata che è la giornata peraltro della vittoria antifascista e della Repubblica antifascista. E quindi una mobilizzazione sociale della classe lavoratrice è fondamentale anche per bloccare le operazioni delle destre reazionarie fasciste e per cercare di polarizzare, di indirizzare o perlomeno di neutralizzare la rabbia e la disperazione sociale di vasti settori della piccola borghesia. Ma se la classe operaia non è in campo con il suo programma, con le sue rivendicazioni, i rischi sono grandissimi che ci sia uno spostamento a destra molto grave e molto pericoloso. Allora che cosa chiediamo sostanzialmente? La garanzia del reddito per tutti, il blocco dei licenziamenti, di fronte al massacro occupazionale occorre la riduzione orale di lavoro a parità di salario, opporre la riduzione orale di lavoro a parità di salario anche per poter riprendere e svolgere attività produttive in termini di sicurezza per quanto riguarda la salute. Le fabbriche che chiudono devono passare allo Stato, c'è niente da fare. Gli investimenti, sanità e scuola devono essere massicci. Solo in questo modo è possibile affrontare quello che si dice a parole soltanto di voler ricostruire una sanità e una scuola adeguata, ma deve essere lo Stato, non possono essere i privati. Basta dare soldi ai padroni dicendo che poi loro creano posti di lavoro, è l'iniziativa pubblica, l'intervento pubblico che deve creare dei posti di lavoro sicuri, buoni, utili alla società e alla collettività, utili anche dal punto di vista della ricostruzione di un servizio pubblico sanitario adeguato e utili per poter costruire l'intervento rispetto alla catastrofe ambientale che anche questo si preannuncia e che tanto più l'epidemia ha preannunciato. Quindi lo Stato deve creare posti di lavoro e lo deve fare in funzione del bene complessivo della comunità. Dove prendere i soldi? Ma i soldi bisogna prenderli dove ci sono. Bisogna prenderli in quel pezzo della popolazione che si è appropriato di un'enorme fetta della ricchezza prodotta tra l'altro dalle classi lavoratrici. Gli strumenti sono più di uno. Serve sicuramente da parte dell'Unione Europea, serve l'emissione straordinaria di titoli comuni europei perpetui, ovvero senza scadenza, sine die, vuol dire mettere questa liquidità molto forte ma non da darlo all'azienda. Significa per poter fare politiche espansive dal punto di vista occupazionale e dal punto di vista del sostegno al reddito. Poi i tanti debiti illegittimi non possono essere pagati e ancora serve una riforma fiscale decisamente progressiva, molto forte da questo punto di vista e una patrimoniale. I soldi ci sono, non è che non ci sono, qualcuno si è appropriato di enorme fette della ricchezza e adesso la deve restituire, deve tornare verso il bene pubblico per l'insieme della collettività. Questa è la strada attraverso cui si può finanziare il rilancio della sanità pubblica e tanto più, anche ugualmente, quello della scuola, così come si devono creare posti di lavoro per il risanamento dell'ambiente. Cioè esattamente fare quel lavoro funzionale non ai profitti alla reddita finanziaria ma al benessere dell'insieme della collettività. È un fatto solo nazionale questo? No, è un fatto internazionale, è un'operazione che va fatta a livello europeo ma in ogni caso può essere, deve essere fatta a livello italiano. Sul piano internazionale poi sta accadendo delle cose straordinarie. Quel che avviene negli Stati Uniti è una situazione drammatica, terribile in una parte, del razzismo, di tutta una storia di oppressione che attraversa i secoli nei confronti degli afroamericani ma nello stesso tempo ha liberato, le mobilitazioni stanno liberando delle potenzialità e anche forme di solidarietà, di unità tra i vari settori dei lavoratori, tra i giovani e gli anziani e qualche volta addirittura anche soggetti sociali che di fronte a quella mobilitazione solidarizzano, aderiscono eccetera. È inaspettata questa mobilitazione ma dimostra quanto profondo siano le contraddizioni del capitalismo e anche profonde siano le possibilità anche a un certo punto inaspettate di risposte sociali di grande ampiezza. Quel che succede in America ha ripercussioni immediata negli Stati Uniti, ripercussioni in tutto il mondo, ieri ci sono state grandi manifestazioni antirazziste un po' dappertutto, compreso in Italia, grandi in Francia, grandi in Inghilterra, oltre quelle enormi ovviamente a Washington che c'è stata e richiama anche noi qui, non è che noi siamo esenti dal razzismo, tutt'altro. L'abbiamo visto in tantissime cose e quindi ci sono i compiti della solidarietà, del sostegno ma anche i compiti specifici italiani. Le leggi infame di Salvini, le leggi della vergogna che sono ancora lì dopo che era stato detto che sarebbero modificate, devono essere cancellate, devono essere abrogate. La mobilitazione a fianco dei lavoratori americani, degli afroamericani deve essere correlata anche a una nostra iniziativa qui, perché l'iniziativa esattamente deve essere internazionale ed internazionalista. È necessario, l'ha mostrato l'epidemia e la crisi internazionale hanno mostrato che il terreno nazionale ovviamente è il punto di partenza, ma la dimensione internazionale della mobilitazione sociale, delle comuni rivendicazioni, sia sul terreno ambientale, sia sul terreno sanitario, sia sul terreno dei diritti, poi del diritto che tutte abbiano un reddito, che abbiano occupazione, che abbiano una casa del centro in cui vivere. È una battaglia enorme. Di fronte a questo domanda, la sinistra alternativa è viva o è morta? Io penso che la sinistra alternativa, anche se divisa, se frammentata, è viva, è presente in tante mobilitazioni sociali, è presente anche in questi giorni, non pesa politicamente, ma sono tanti i militanti, anche i sindacali, che vogliono rilanciare la rotta di classe, la mobilitazione. La sinistra alternativa resta uno strumento fondamentale e la sinistra alternativa deve trovare la strada per uscire dalla sua irrilevanza politica, deve trovare le forme di unità d'azione e ci stiamo lavorando un po' tutti in questo. È all'ordine del giorno, di questi giorni, la preparazione che coinvolge un po' tutte le forze della sinistra anticapitalista d'alternativa per una grande campagna comune per la sanità pubblica, ma ci si ritrova anche su tanti altri fronti e questa capacità di iniziativa convergente deve crescere perché c'è la necessità di tornare a pesare anche sul terreno sociale e politico complessivo, di riuscire a mostrare che c'è un'alternativa alle scelte dei vari settori della classe dominante, quelli ultra reazionari, ma anche quelli democratici ma liberisti che hanno praticato le politiche dell'austerità e del liberismo. È quindi il tempo di costruire questi vasti fronti unitari. È l'impegno della nostra organizzazione che lavora in ogni luogo dove è presente per creare le condizioni di una mobilizzazione, ma che lavora anche per favorire l'auto-organizzazione dei movimenti sociali. Non è semplicemente l'azione dell'organizzazione, dobbiamo lavorare tutti perché le classi lavoratrici, i vari soggetti sociali tornino protagonisti, si auto-organizzino, costruiscano la loro mobilitazione che è anche la base per poter avere la forza per cambiare le cose e che permette anche una crescita della coscienza sociale e politica. anche perché siamo in momenti drammatici, di grandi sconfitte subite nel passato, ma anche nei momenti in cui sembra che l'orizzonte sia più chiuso e in cui sia più chiuso per l'idea di un'alternativa socialista, vedete come negli Stati Uniti d'America, ma anche si aprono grandi contraddizioni e la battaglia per una società alternativa, per il socialismo resta più che mai da qualità, anzi la battaglia per l'ecosocialismo. I tempi possono produrre anche cambiamenti molto rapidi, per questo dobbiamo avere fiducia e questo comporta anche che serve la militanza politica sociale. La militanza politica sociale delle compagnie e dei compagni è una condizione fondamentale per poter inserirsi nelle contraddizioni, per potersi inserire nelle disponibilità che ci sono in settori di massa, per aiutare questi settori di massa a trovare la strada della lotta, della mobilitazione, della chiarezza delle proprie rivendicazioni e dei propri difficili. Più che mai è il momento di credere nella possibilità che gli sfruttati e gli oppressi possano riorganizzarsi e tornare attivi e costruire un'alternativa a questo sistema. Molti compagni ci hanno anche contattati attraverso le dirette che abbiamo fatto in queste settimane, chiediamo a tutti di darci una mano, di partecipare all'attività di sinistra anticapitalista, lo chiediamo non in modo divisivo ma in modo esattamente di essere più forti per costruire questa mobilitazione sociale ampia, unitaria e unitaria anche delle forze della sinistra. Questa è una necessità fondamentale, la militanza politica, l'unità d'azione, la battaglia per un'alternativa perché è necessario costruire la barbarie che il capitalismo produce ogni giorno. Più che mai il nostro obiettivo è quello di una società libera dall'oppressione e lo sfruttamento che oggi chiamiamo ecosocialista. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!